Allora ragazzi, ma come vi siete sistemati ragazzi? Troppi errori, mi servo io. Eccomi qua ragazzi, abbiamo deciso. Volevamo mangiare i miei primi, Giallo. Oggi di piatti speciali abbiamo i macaroni alla pecoreccia o le lepene al nero di sebbia. Io preferivo le penne all'arabbiata. Oh mi dispiace, le penne all'arabbiata le sentiamo.